Mentre qui suonano le campane, io ho un altro compito, quello di farvi alcuni calcoli proprio in relazione ai numeri che riguardano la mia vita e tutta la sua pienezza. Infatti Genesi 38, da cui risulta praticamente mio padre, Luigi Amodeo, G.A. come estremi congiunti e sono gli estremi di Giuda, mia madre, Baratta Mariannina, estremi congiunti Tamar, come Tamar, la mamma in Genesi 38. Poi io, come quel contenitore che è zero in se stesso, tanto da essere descritto in Genesi 38 come un primo marito di Er, un primo marito di Tamar, chiamato Er, in cui sono stati soltanto coloro che sono venuti dopo, che ci hanno aggiunto la vocalizzazione della R, perché la sola consonante lì è la R di romano. Ma questa R morì. Era sposato, Er, a Tamar, che se noi la trascendiamo, ossia la leggiamo nel senso inverso, ossia per come la leggiamo su un testo in cui è scritto il nome da destra verso sinistra. Allora, noi che leggiamo sempre tutto da sinistra verso destra, leggeremmo quel nome Tamar come Er Amat. Amat sapete bene che è un verbo in latino e lei è smascherata nella sua verità. Lei ama romanamente Amat, Er, il suo marito defunto, al quale vuole dare un erede. Allora, in un primo tempo, sposa il fratello Onan. Ma Onan non vuole che il suo seme dia un figlio al fratello Er e crea l'onanismo, ossia quella pratica anticoncezionale di non versare il seme in vagina. Allora Dio fa morire anche lui. Il padre, Giuda, che aveva un terzo figlio, ma era troppo giovane, approfitta del fatto che era giovane e dice a Tamar di tornarsene a casa sua. Quando il giovinetto residuo tra i tre figli maschi che aveva diventerà in grado di sposarla, sarà legato a lei. Ma il giovinetto cresce e Giuda fa finta di dimenticarsi. Invece Tamar no. E, capito la solfa, ossia che suo genero non aveva nessuna intenzione di dare un'erede a Er, perché le negava di sposarsi con il terzo genito, prende l'iniziativa, si traveste da prostituta sacra, dopo di avere svestito gli abiti vedovili, e si pone sul passaggio di Giuda, il quale nel frattempo era rimasto vedovo e poteva consolarsi secondo le norme solo attraverso le prostitute sacre, che avevano proprio questo compito di dare sfogo in modo sacro ai vedovi. Bene, Giuda è tradito proprio dalla nuora, che non riconosce quando gli si presenta da prostituta sacra, nascosta dal burka e non se lo toglie nemmeno il burka quando fa l'amore. Ebbene, da queste nozze, con il contenuto di vita che entra virtualmente a prendere il posto di un R-O, la congiunzione di R e Onan, che è un sacco contenitore, apparentemente titolato della paternità del nascituro, perché la mamma era la loro sposa e lei agiva sempre per conto del primogenito R che poi si è integrato con il secondogenito Onan, ebbene questa nascita virtualmente è assegnata a R e poi a Onan e virtualmente nasce solo una mano che è dichiarata la mano del primo. Insomma, il primo si presenta solo con una mano. Dopo che è stata identificata con un fiocco rosso, un filo rosso legato attorno alla mano, quella rientra nel grebo materno e fa passare per primo il gemello che non aveva la caratteristica di essere il primo. Era il secondo, ma questa mano attribuita a R-O, questa romano, antepone al suo primato il primato dell'altro gemello da cui discenderà Gesù Cristo. Trentottesimo dal padre vero raccontato in Genesi 38. Quindi in Genesi 38, libro 1, assimilabile a 138 quando il valore è assoluto 100, lo assegniamo al libro e il 38 lo assegniamo al capitolo 38. Ecco, questo 138 è a monte di tutta la mia vita. L'abbiamo visto, mio padre, estremi G.A. di Luigi Amodeo, agli estremi di Giuda. Mia madre, Baratta Mariannina, agli estremi di Tamar. Io ho i cinque nomi di quelle cinque dita della mano. La somma del valore numerico di tutti i miei cinque nomi conferma Genesi 38 sia il 138 come il 381 e 381. Insomma, perfino il codice fiscale è determinante in questa nascita perché il mio codice fiscale intero si rifà tutto quanto a Genesi 38 quando il 138 noi in fisica lo andiamo a cercare come una unità e lo troviamo come una unità, il 138, nelle quantità di energia che sono possedute da ogni grado di calore espresso in Kelvin. Allora, l'unità è data da 138 volte 10 elevato a meno 25 J per ogni grado Kelvin. E qui ci vedete compreso nel 138 il mese e l'anno, il gennaio del 38, e nella dimensione 25 di quel 10 elevato a meno 25 c'è presente anche la espressione della dimensione della data di nascita, una data precisa che ritroviamo in Genesi 25, altro parto gemellare, in cui stavolta nasce questa mano, la solita mano, che tiene il carcagno di Esau perché Giacobbe, estremi già di Luigi Amodeo, vuole mettersi davanti e ci riesce. E quando Giacobbe si antepone con la G davanti al fratello Esau, privato del primato, che nel suo nome Esau è dato dalla A, abbiamo che G più Esu uguale Gesù è proprio il valore del nome di Gesù. La cosa sorprendente è che se facciamo allo stesso modo, visto che la quantità cabalistica dei due nomi sia Esau sia Giacobbe è 42 in ciascuno e quindi è un parto gemellare in questo 42 che è il DNA di quello che per la cabala ebraica porta al nome segreto di Dio. E vedete bene che questo nome segreto di Dio, espresso da 2,42, si combina proprio in un congiunto dato da G più Esu, in cui G è il primato in Giacobbe e Esu è quello che era uno e trino in Esau ma perde il primato e rimane Esu. Ecco, in tutto questo, Genesi 25 e Genesi 38, l'espressione totale che esiste perfino nel codice fiscale in Genesi 38 riguarda tutto il personaggio che state vedendo perché il valore del cognome Amodeo nel codice fiscale diventa MDA. MDA come Madonna o come Mater Dei o come Mat o come Tamar laddove la madre diventa Mater e Mat è proprio Tamar, il Tamar che è l'indicazione di una madre divina che divinamente riesce a far venire dei figli dal marito che non ha più. Ecco, il MDA sta proprio per Madonna nel mio valore che rimanda al cognome Amodeo che è 47, lo stesso valore cabalistico di Tamar. Ecco, Amodeo è mio padre, Tamar si rimanda a mia madre, ma sia Amodeo sia Tamar sono 47 tutte e due. 47 che cosa indica? In 40 indica il padre che è dato da 10 più 30, 1 e trino nel 10 e quindi è 40 padre, ma il 7 indica che è al lavoro in un'opera piena che vale 7. Ecco, nel nome, poiché io ho 5 nomi e quando capita una roba del genere il codice fiscale si fa con i primi tre nomi e le prime tre consonanti di ogni nome, Amodeo, i nomi sono Romano, Antonio, Anna, la R è la prima nel mio nome, Antonio e Anna hanno N ciascuno e quindi il mio codice fiscale dei miei nomi è RNN, ma sono gli stessi codici fiscali di R e Onan, R e Onan, NN, R e NN. Poi viene il gruppo che definisce la data di nascita, giorno, data e nel mio caso, nato nel gennaio 25 del 38, è 25 A perché anche nel codice fiscale le lettere servono come numeri e il mese di gennaio che è il primo si esprime come una A, Genesi A 25, A 38 o se volete il libro primo sia nel capitolo 25, parto gemellare, sia nel capitolo 38, parto gemellare, nel primo, il 25 è previsto la nascita di un grande popolo, il popolo romano e un popolo più piccolo che deve servire al primo, ma il primo servirà al secondo e il popolo romano servirà proprio quando bisogna far venire fuori il Natale di Cristo e il Ra, il Dio Ra, il Dio del Sole Romano, che era chiamato a Roma il Sole Invitto, Sol Invictus, che vale 147 nel valore cabalistico, proprio come il valore assoluto del 47 uguale a Modeo, 147, Sole Invictus, ma anche Ra e Romano Modeo, il Ra Romano indica il Dio del Sole Romano, ecco, questo Ra Romano cede il 25 gennaio in cui era celebrato lui perché diventi il Natale del Figlio, quindi quello che era previsto in Genesi 25 si attua, lo ha detto il Signore, in te cara mamma che ti lamenti che hai una grande lite nel seno, ci sono due grandi popoli, sempre in lotta tra di loro, il popolo romano e il popolo israeliano, questo non lo dice ma sono i due grandi popoli in cui quando è atteso il Messia che salva il popolo di Israele, lo salva dal popolo romano, ma è il popolo romano che cede poi il Natale a Cristo. Ecco, rimangono soltanto le ultime cinque cifre del mio codice fiscale per vedere se veramente è descritto tutto e le ultime cinque cifre del mio codice fiscale sono D5, ora si parla di una mano e D5 indica le dita 5, poi c'è 27I, 27 indica 3x3x3, quindi è un valore proprio trino nella sua trinità, 27, ma se noi questo valore lo esprimiamo in gerarchie decimali e diventa 333, ossia lo esprimiamo una volta come 300, una volta come 30, una volta come 3, ossia proprio in tutta la gamma legata alla trinità, 333 più 1, abbiamo esattamente il valore 1 e trino nella trinità dei nomi che ho io, che sono a questo punto validi per 333 più 1, perché romano 66, più 78 Antonio, più 26 Anna, più 51 Paolo, più 113 Torquato, porta al totale esatto di 333 più 1, insomma questo 333 più 1 ha la forma del 27 dato da 333 più la I data dal valore che è meno 1, è 10 meno 1, è 9, ma è sempre legato all'unità come il ritorno indietro rispetto a 10 vale 9, ma è sempre il ritorno indietro di 1, e quindi quando abbiamo 333 più 1, questo 1 se lo considerate come quel meno 1 da cui nasce più 1 rispetto al ciclo 10 è il 9, quindi avete chiaramente tutto quanto messo in relazione alla mia vita, ma quello che vi voglio far vedere oggi è come l'intera definizione in Genesis 28 porta alla intera espressione di tutta la durata della mia vita, io in relazione alla mia vita ho fatto una sorta di exit poll, continuano a farla questa considerazione dei vari exit poll legati alla fine della mia vita, voi mi dite che io ho sempre sbagliato, ma anche gli exit poll che sono fatti sulla base di pochi indizi come sapete bene sono molte volte fallaci, nel mio caso fallaci proprio non sono stati perché hanno espresso delle verità trascendenti, ossia parziali che nella condizione di una presenza divina sommaria che doveva essere presente andarsene, questa specie di partita aveva tutta una serie di proprio di partite messe insieme una dopo l'altra, la prima di partita riguardava proprio la pienezza di una vita di mille giorni, perché mille giorni? Perché il valore divino quando si poggia su uno zero uno che io vedo, ma che voi leggete dieci e si presenta dunque come dieci al cubo, anziché quell'uno al cubo che lo diventerebbe a uno, quando è dieci al cubo si presenta come mille e allora la vita intera diventa mille in giorni. Io ho un antefatto di 138 legato mio padre e mia madre, Luigi che vale 54, Mariannina che vale 84 e 54 più 84 è 138. Io ho questo antefatto nominale di 138. Per arrivare alle 999 unità, comprese nelle mille assolute, occorrono altri 621 giorni. Ebbene, aggiungendo esattamente 621 giorni al mio giorno natale, io sono stato moribondo e c'è stata la prima morte trascendente perché non sono morto, il dottore ha dichiarato che ho vinto la morte, ma di fatto quel giorno lì è entrata la grazia di Maria Santissima che ha realizzato un grande miracolo e ha riportato in vita dentro di me quel Cristo che esiste in ciascuno di noi. È un valore puro, filiale di Dio che esiste in tutti quanti noi, quindi non stupitevi se io vi dico che è entrato in me. Entra in chiunque di voi, però in me c'è entrato proprio per rappresentare se stesso, mentre in voi entra per fare da servo alla presenza del vostro io e non del suo. In me si è incarnato per rappresentare lui perché io sono un semplice sacco contenitore in cui io non sono niente, ma sono a disposizione del contenuto che c'entra e allora è lui, esiste lui in me, perché io proprio sono rappresentato, come descritto in Genesi 38, da R e Onan, congiunti in Ro che danno luogo alla vita di una mano, ma solo se in quel contenitore morto entra la vita di un padre, padre che esiste ed è vero e si accoppia con la madre esistente e viva e padre vivo e madre viva sono in grado di riempire di contenuto quel contenuto morto in se stesso dato dal primo figlio e dal secondo figlio. Ecco, io sono un contenuto morto, un sacco che può presentare qualunque contenuto non del sacco, ma del contenuto dentro il sacco, tanto che quando poi fu chiesto ad Abramo di togliere di mezzo il sacco, era proprio questo il sacco da togliere di mezzo, quel contenitore che in un certo senso c'è in ciascuno di noi e è compresa una anima di Dio, ma in voi è permesso a ogni anima di Dio di rappresentare il suo carattere specifico, singolo, soggettivo, invece in me il Signore si è voluto rappresentare da solo e in se stesso e non attraverso il valore dato al mio sacco. Ora io vi voglio far seguire esattamente per vedere, controllare se è vero oppure no quello che io dico che nel 138 che riguarda me c'è il contenuto di una vita descritta non solo come vi ho già detto in Genesi 38 che perfino tutto il codice fiscale è descritto in me e riguarda quello che è descritto in Genesi 38 e in Genesi 25, no ma c'è anche la definizione totale anche di tutta la vita, di tutta la sua durata e delle cose a cui essa si riferisce come quantificazione. Se volete controllare, se io vi racconto balle oppure vi racconto cose che abbiano una loro logica, che non dipende da me che ve la dico perché è una logica oggettiva, non vi resta che pazientemente seguire. Ora se avete un minimo di volontà di attenzione, se non lo farete ora, io vi assicuro lo farete poi per sempre, per tutta l'eternità, perché per tutta l'eternità queste cose che io vi dico oggi e molti di voi snobbano saranno osservate e saranno viste con certezza perché in me c'è quella verità che si presenta per conto suo e che è scritto nel Vangelo che tutto passerà ma la verità di Cristo non passerà mai e non passerà mai perché la verità di Cristo si è insaccata nel mio sacco che essendo proprio zero non influenza minimamente il valore delle verità, tanto che esse non dipendano più da me che ve le dico. Una vera verità non ha la condizione e il condizionamento di essere creduta solo sulla fiducia di chi la dice. Una vera verità è autonoma, non dipende da chi la dice, ma per capire una roba del genere occorrono delle menti adulte perché le menti che non sono adulte credono un po' come le ocche, vanno dietro a chi ritengono che sia valido e allora si accodano. Tutti gli imbecilli salgono sempre sul carro dei vincitori perché non hanno capacità autonoma e allora se vogliono vincere anche loro non gli resta che accodarsi e salire sul carro dei vincitori. Chi invece ha logica e vuole raggiungere i risultati suoi da sé si affida al senso della sua logica e non si fa dominare da alcuna condizione di pregiudizio come quello per esempio che esiste una verità che sembra lampante, che sembra così evidente che non abbia bisogno di essere dimostrata. No, io non vi voglio parlare di verità lampanti che, visto che sono così chiare e lampanti, non c'è bisogno di dimostrarle. Tutto va sempre dimostrato e il solo modo di smascherare una verità che sembra lampante ma lampante proprio non è, è proprio quella di osservare scrupolosamente tutto ciò che entra in un ragionamento, la validità dei presupposti e tutto il seguito per vedere se i presupposti sono poi seguiti in modo scrupoloso e tutto è conseguente allo scrupolo di verità con cui tutti questi gesti sono seguiti. Ora, chi vuole avere ora questa pazienza ha il modo di accertarsi ora di queste cose, ora che ve lo dico, chi non lo vuole fare ora sappia che sarà costretto un giorno a farlo e a quel punto, se avrà la fortuna di arrivare vivo a quel giorno, si rammaricherà perché avrà avuto a disposizione la verità per entrare a colloquio diretto con chi la rappresentava e invece di cercare di capire gli ha dato del pirla, gli ha dato dell'imbecille, gli ha dato del drogato e io mi ritrovo sempre di fronte a stupidini che mi dicono cosa hai fumato oggi, tu sei proprio fuori e insomma io pazientemente li accetto ma li lascio proprio a futuro giudizio. Voi sapete benissimo che le verità tanto più sono complete e generali tanto più si scontrano con tutti coloro che credono nell'evidenza e a questo punto proprio è la lotta contro l'evidenza che esacerba al massimo le questioni come quella fatta da Galileo Galilei che diceva che non era vero che quello che appariva, ossia che il sole girava attorno alla terra, era vero il contrario, non era al centro della terra l'universo, era un pianetino come tutti gli altri eccetera e proprio per questa osservazione qui di verità proprio quelli che si poggiavano sull'evidenza ma non lo vedi che il sole giri intorno alla terra? Ecco io vi porto tanto più in là a dirvi che la vita umana è vista girare come il sole, sorgere, nascere, raggiungere il punto più alto e morire secondo la stessa dinamica che porta a vedere vero ciò che è falso. Noi sappiamo che è sempre falso quello che vediamo anche se è lampante. Quando vai sull'autostrada cosa vedi? Venirti tutti addosso e se ti viene addosso un palo stai attento perché sei tu che gli stai andando addosso a quel palo però sembra che il palo ti viene addosso a te. Noi vediamo sempre la dinamica uguale e contraria sembra una dinamica degli oggetti e invece è solo una dinamica del soggetto e anche la vita la vediamo in questo modo. Sembra una dinamica degli oggetti materiali che ci vengono addosso provenienti dal passato mentre invece noi siamo che stiamo andando verso quel passato proprio verso il passato e a mano a mano che noi procediamo verso il passato vediamo la vita reale venire da quel passato. Ecco chiarito tutto ciò ecco io vi presento adesso quello che ho scritto stamattina. tutta la mia vita decisa in genesi 38 uguale a 138 dando per 100 il valore assoluto che va al libro e 38 il valore unitario che va al capitolo. 138 ha fissato il mese e l'anno della mia nascita nel contesto in cui i quanti in centinaia indicano i mesi e quelli in unità indicano l'unità degli anni. 60 più 78 uguale 138 parte da un minuto primo espresso in 60 secondi e aggiunge il 78 del mio secondo nome Antonio lo aggiunge al primo come la trinità di un dio uguale 26 perché la d è 4 la i è 9 la 8 e 13 e la somma è 26 notatelo è lo stesso contenuto cabalistico che in ebraico va al tetragramma di Yahweh. Ebbene tutta questa vita trina nel mio caso è espressa nel secondo nome che è trino rispetto al terzo Anna uguale 26 uguale Dio. Dunque pertanto si avranno i 78 anni trini riferiti ad Anna che è il mio terzo nome i quali aggiunti al primo ne asseconderanno tutta la vita di 78 volte un anno e questo è il senso del primo espresso nei secondi che sono 60 più il valore del secondo nome 78 ecco 60 più 78 uguale 138 presenta proprio come scritto lì in Genesi 38 quando si somma un primo al secondo. Andiamo avanti 60 più 111 al cubo meno 7 per 3 uguale 183. Quando al primo espresso in secondi aggiungiamo proprio 111 al cubo che da una scaletta che sale e scende il risultato di 111 al cubo è no io qui ho sbagliato scusatemi qui è al quadrato 111 al quadrato sia un'area non è un'area il cui flusso poi è 1 tanto che 111 al quadrato esprime l'area nel flusso 1 e l'area di 111 al quadrato è data dalla la scaletta 1 2 3 2 1 123 2 1 ossia più 2 e 1 più 7 volte 3 che è da togliere perché 1000 1 2 3 2 1 bisogna togliere 2 1 finale ossia bisogna togliere il 21 e togliere il 21 significa togliere il 7 per 3 e dunque che cosa significa tutto ciò che c'è tutta la quantità nella sola risalita di 123 quindi 60 quando si aggiunge tutta intera la risalita data da 123 abbiamo che arriviamo al valore 183 quindi aggiungendo al primo tutta la salita ideale esprimibile in un secondo il secondo valore è 123 60 più 123 è uguale a 183 allora indicheranno i giorni che si aggiungono ai 78 anni compiuti il 25 1 2016 quindi a livello di anni abbiamo visto prima 60 più 78 anni adesso stiamo andando nel dettaglio dei giorni perché quando arriviamo a fare questo 60 più 111 al quadrato meno 7 per 3 e abbiamo 183 questi sono i giorni che si aggiungeranno ai 78 anni compiuti il 25 gennaio del 2016 che è un anno bisestile per portare sei mesi e un giorno dopo alla data del 27 luglio 2016 dunque avete visto che quando io avrò esattamente 78 anni e 183 giorni dopo il 25 gennaio io arriverò al 26 7 del 2016 che secondo il mio exit poll sulla vita sarà l'intero della durata della vita mia proprio tenendo conto di tutto quello che ha detto Gesù in relazione alla fine del tempo e tutto quello che avevano detto anche in relazione a ciò le indicazioni del profeta daniele che aveva parlato di 1290 giorni e poi di 45 giorni in più che portavano i 1290 a essere 1335 ecco tutto questo in relazione poi a metà di quel tempo di 45 giorni avrebbe portato alla durata di questo momento definitivo della fine del tempo ma di chi dell'uomo no dell'uomo ideale ossia di quel valore puro che finalmente si presenta nell'uomo e si insacca da solo in un contenitore che non c'è ecco chiarito dunque come per la definizione dell'anno bisogna aggiungere gli anni pari al secondo nome e per la definizione dei giorni bisogna aggiungere al primo espresso nei secondi proprio tutta la scaletta crescente di 1 2 3 ecco che andiamo avanti e vediamo come il 183 è trasceso divinamente esattamente dalla sua lettura uguale e contraria data da 381 che è il numero espresso da tutti i miei cinque nomi più il cognome romano 66 antonio 78 anna 26 paolo 51 più torquato 113 formano 333 più 1 ossia la divina trinità in tre cicli trascendenti più l'unità e è sommata alla divina unità aggiungere amodeo uguale 47 porta 334 ad essere messo in potenza in quel 34 perché 300 più 3 elevato a 4 è proprio quel 381 che si ottiene aggiungendo ai cinque nomi il cognome il 334 presenta le ultime due cifre una in potenza dell'altra quindi 334 i cinque nomi sono indice giusto dell'intero quando il 334 si legga come 300 più 3 elevato a 4 ora per calcoli che io vi ho fatto in precedenza la durata intera della vita prevista è data da un mille e uno più 27.672 che sono i giorni totali di romano il 26 luglio 2016 che è conseguente a tutto quello che abbiamo visto fino adesso ossia sono tutti i giorni del suo previsto exit pole sulla sua vita ciò trascende e comprende genesi uguale in principio che vale mille unità che essendo unità come mille mille unità è un mille che ha uno come denominatore e quando comprendiamo anche quel denominatore 1 e lo rendiamo un valore assoluto allora il valore assoluto è quello che moltiplica i due opposti uno dato dalle mille volte l'altro dato dal millesimo delle volte e mille più millesimo mille uno è proprio il valore iniziale da cui deriva genesi 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 brashit in bibbia espressa proprio nella cabala ebraica secondo cui brashit vale 913 rivela questo 913 esattamente come il movimento di un 88 che sommato a 913 porta proprio alla quantità mille e uno che esiste in principio in principio c'è mille uno poi c'è dentro un 88 che si sposta come la azione data da brashit uguale 913 ecco bene quando noi andiamo a sommare a questo in principio proprio quello che è descritto in genesi 38 e si estrapola questo valore qui di 27.672 questo trascende e comprende ripeto genesi uguale in principio che vale dice a cubo unità sommato a quanto si estrapola dai nomi zerac e perez che sono quelli dati al primo e secondo nel pentateuco ossia nei primi cinque libri della bibbia nel primo e nel capitolo 38 leggibili 138 se al libro diamo il valore assoluto 100 e al capitolo diamo il valore di 38 unità il primo gemello zerac vale il 54 perché z 21 più 5 più 16 più 1 più 3 più 8 e 54 ebbene zerac vale il 54 che è proprio dato da meno 27 fino a più 27 dunque impone il più 27 mentre il meno 27 è un valore che viaggia al contrario e quindi se è letto al contrario è letto 72 da destra leggendo nel verso opposto che è quello negativo tra le due trinità iniziali e finali di zer e rezz che sono 3x3x3 perché zer quando è soltanto la parte reale di zerac ossia solo 3 sulle 6 cifre di zerac poiché la media delle 6 cifre è 54 la media delle prime tre è virtualmente il 27 solo il 27 ebbene allora abbiamo espresso un 27 in positivo a partire da 0 e di un valore di quel meno 27 che è letto da destra 72 che è un 72 che parte al ritroso dal 100 assoluto e gli somma il meno 28 assoluto dato da meno 27 unità unitarie tanto che in 0 più 27 e in 100 meno 27 più 1 c'è il trinitario inizio 27 e fine 72 dato da zer e dal suo inverso rezz questi due rezz e zerac sono un puro sacco contenitore di vita altrui un sacco che in se stesso è sempre zer uguale 0 0 ma espresso in valore alfanumerico zer è 42 sono le 42 cifre del nome segreto di dio secondo la cabala giudaica e sono quelle di romano antonio anpaolo torquato amodeo che in media sono 6 per 6 al divino lavoro più 6 sabati di riposo divino alla fine dei sei nomi di dio nelle 6 quantità di spazio vuoto del silenzio e questo è il sabato irrinunciabile è quello che porta dal lavoro di 6 volte 6 al 42 che aggiunge anche il settimo giorno del sabato ora partendo dallo 0 di zer uguale 42 nel valore alfanumerico il suo inverso rezz legge 24 quel 42 la lettura bilaterale afferma un 42 più 24 uguale 66 come lo 0 di quel sacco bivalente che quando è bivalente è bivalente come 33 più 33 ossia padre e spirito santo l'antefatto di gesù cristo è un puro contenitore dalla vita zero dei due morti mariti di tamar er e onan congiunti in ro e puri padri putativi nella sposa viva tamar che si concede al loro vivente che si concede al loro vivente padre giuda il contenuto vitale dunque sta in g a di giuda e del padre suo vivente trino in giacobbe al padre putativo congiunto in r più onan in ro la mano giudicata del primo avvalora il r più o più mano uguale 66 dato proprio dal 42 più 24 insomma partendo dal principio assoluto di 10 al cubo che nel disegno di fianco lo abbiamo espresso in mille e una unità divise in modo gemellare tanto da averne 500 da una parte e 500 dall'altra metà da una parte e metà dall'altra il l'apporto di questa genesi che nel riquadro io ho indicato gemellare nel riquadro interno sia a destra sia a sinistra c'è poi il risultato del numero 38 di questa genesi e il numero 38 porta come vedete il tuo valore di zerac e rets a essere zer e rets come 27 e l'inverso 72 tutto questo ha trasceso ossia non ha considerato minimamente tutte le lettere che sono messe tra zer e rets e cosa esprimono nel valore congiunto binario perché è legato al padre e spirito santo in zerac e ha una sola dimensione in quella del figlio indicano ch che in greco è a forma di x e p che è proprio la forma che in greco è assunta dalla ro tanto che qui il valore interno a questo sacco che è zero sia visto da destra sia verso da sinistra si presenta con un contenuto di Cristo ecco ora però in questo Cristo noi abbiamo tralasciato una a e una e ossia un possesso e un essere un possedere Cristo è un essere Cristo quando aggiungiamo anche quel valore e consideriamo tutto quello che abbiamo trasceso ossia a c h p è il valore dei delle lettere è questo nei numeri uno più tre più otto e vedete è già presente come cento trentotto vedete anche qui incide cento trentotto uno tre otto quattordici più cinque uguale trentuno ebbene se sappiamo che Cristo è il dio dell'essere che si è precisato io sono ma noi adesso lo stiamo vedendo non in termini di soggetto ma dandogli del tu io sono diventa diventa un tu sei il valore di sei è proprio dato a titolo trino perché sei implica tre cifre il diciasette più cinque più nove e vale lo stesso trentuno quindi noi abbiamo un ventisette e un settantadue che quando in mezzo c'è l'essenza virtuale di un Cristo a cui noi rimandiamo un tu sei esprime proprio quel contenuto come un sei e si infila lì in mezzo al ventisette e al settantadue e diventa un unico numero pari a ventisette mila seicentosettantadue che sono i giorni che se si aggiungono al mille e uno di genesi portano alla fine della vita per come l'abbiamo considerata fino ad ora è una prova che più chiara di così e più attendibile di così non potrebbe essere fino a questo punto resta da capire in che modo genesi 38 fissi anche le ore 15 in cui l'ex pole della mia vita prevede la fine della vita e l'inizio di quella vera in cielo romano nacque alle ore 19 che risultano dalle ore 19 e 19 in cui un aereo atterrò a natal il 25 gennaio del 1938 come reso noto dal corriere della sera di quel giorno in relazione al raid rio in cui giunsero a rio e completarono il raid identico a raid trasceso in pomerio la via di felitto in cui i due atterrarono leggibile rome rio per la p che per molti è la r come oggi in russia dalle 19 alle 13 della dipartita di gesù ci sono tutto il dramma dall'ultima cena fino alla morte sono 5 ore il giovedì e 15 il venerdì santo per un totale di 20 che considera tutto il moto possibile 10 di un trascendente 10 le ore intere del venerdì santo furono le 14 unità uguale 15 della ideale via crucis nel giorno di venerdì ecco per farvi vedere che tutto questo che vi sto raccontando io non è falso vi mostro questi che vi ho riferito come elementi conoscitivi la pagina del corriere della sera che parla della trasvolata uno degli aerei era guidato da bruno russolini il figlio dell'onnipotente e andava da un mondo vecchio al mondo nuovo in questa trasvolata l'apparecchio imoni uno dei tre per sopravvenuta avaria ad un elica che lo costringeva a navigare con due soli motori per quasi tutta la trasversata in seguito ad ordini del capo della formazione dirigeva sul natal dove atterrava alle ore 19 e 19 e io nascevo alle ore 19 a felitto ecco aggiungendo 20 ore alle ore 19 e oppure secondo l'ex poll della mia vita presumo una uscita di scena alle ore 15 ossia 20 ore dopo ma vediamo come il 138 sta con la sottrazione di 20 al 118 che è composto da 66 più 66 uguale 132 meno 14 e 14 è proprio un piano di creazione avente lato 7 e 7 quando dal 138 si sottrae 6 ossia la percorrenza di tutti i sei versi ossia se volete tutto il lavoro sei fatto divinamente il 138 diventa 132 e diventa 66 più 66 laddove 66 è il valore di romano in cui però sia presente romano in tutto il suo avanzamento ossia la presenza di due enti divini ecco per essere il 132 di 66 più 66 il 138 deve spogliarsi di tutta l'opera a dimensione 6 nel lavoro tanto che il 138 meno 6 132 sia il duo paterno in r più o il sacco senza vita cercato da r e poi da onan da cui nacque infine la mano allorché ad un duo di morte entra una vita paterna trascendente quella morte ora avendo aggiunto anche le ore 15 a definizione delle ore del giorno in cui è prevista l'uscita dalla vita nel solito modo che consente di arrivare al calcolo del potenziale lineare di questa data per per vedere se è un potenziale intero bisogna giungere partendo dall'anno 2016 virgola il mese 07 il giorno 26 e l'ora 15 per definire le ore occorrono dieci cifre decimali ecco questo valore praticamente esprime un'area che moltiplicata per 1 è sempre il volume avente a questo numero a questo numero l'area quando il flusso è 1 e dunque la radice quadrata di questa area determina il potenziale in linea grazie al quale esiste quell'area e arrotondato sempre a più 1 nella ultima cifra la radice quadrata di questa data rivela 44,969,72,664 e evidenzia in modo perfetto una intera vita idealmente divina ora visto che io dimostro sempre il perché delle cose che io affermo ecco perché questo valore espresso in linea rappresenta l'unità 44,969,72 eccetera espresso al quadrato nella velocità nella verità di ogni linea data dal prodotto scalare tra le due opposte velocità aventi lo stesso numero porta a 2016 07 25 15 e 00 che esprime le ore esatte 15 e 00 intere del giorno 26 del mese 07 e dell'anno questo numero 2016 questo numero indica l'interezza totale di un vettore di vita infatti 44 è il valore intero che indica 1 uguale 44 dato dalle 11 dimensioni di 10 unità che esistono come 11 in ciascuna delle 4 della realtà quindi l'unità è espressa mediante 44 unità componenti 900 indica nei mille millesimi dell'unità della massa tutto il moto del 100 che è il valore assoluto della superficie 10 per 10 69 indica in dettaglio di 10 elevato 10 elevato a 10 elevato a 5 sia 100 mila nel valore inverso di un centomillesimo tutto il moto nel 100 assoluto che è dato da 31 unità e trinità che è il valore unitario 726 dettaglia a dimensione 10 elevato a meno 6 tutta l'opera divina 7 che è di dio uguale 26 alla dimensione 10 alla meno 8 dell'unità della luce questo numero qui esprime due dimensioni una 7 e alla dimensione 10 elevato a meno 6 di tutto il lavoro e lo esprime appunto in tutta l'opera 26 e alla dimensione 10 alla meno 8 della luce e esprime proprio la quantità 26 attribuita al termine dio 64 dettaglia alla dimensione atomica di 10 elevato a meno 10 le 64 unità che espresse in potenza binaria su padre e spirito santo posti 1 più 1 uguale 2 esprime quel 2 elevato a 6 uguale 64 che è riconducibile come 2 e 6 al 26 uguale dio come è evidente la vita di 33 anni di gesù se si rilancia del tempo terzo di 33 terzi uguale 11 mentre assume il valore 44 dato da 33 più 11 somma alla vita di gesù la valenza unitaria della sommatoria 0 più 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 uguale 66 contenuta da tutti i numeri interi presenti in 11 tanto che sommando alle 33 dimensioni della vita di gesù tutto quanto di intero stia in 11 si somma al 33 un 66 che porta il 33 a valere le 99 unità delle 100 assolute date da 99 più 1 unità anche il dettaglio totale dei 10 valori decimali che portano all'intero in dieci decimi rivela in tutte le dimensioni significative tutti i valori interi riferibili a un dio uguale 26 la cui essenza data da due 6 vale nel terzo nome come il 66 dei due 6 del primo nella romano che vale appunto 66 ora una vita di un contenuto trino si deve esprimere come tale in relazione al numero 138 in questo modo 54 più 84 uguale 138 è l'antefatto dato dal nome luigi 54 di suo padre e dal nome mariannina uguale 84 di sua madre i nomi di papà e mamma sono alla base del 138 138 più 138 proprio in rappresentanza del gemellaggio che è descritto nato in genesi 38 determina un valore che meno 10 è uguale a 276 meno 10 266 che sono i giorni che passarono dalla sua concezione il 4 di maggio del 1937 al 25 gennaio 1938 in cui nacque la duplice genesi gemellare datata 138 viene riferita alle 10 dita delle due mani tanto che le 10 dita di un uomo si presentano puntualmente dopo tutto il moto possibile di formazione in grembo materno e si vede che questo moto è proprio condizionato dal valore 138 che avanza interamente di 138 quando a 138 sommiamo 621 unità che sono in valore assoluto 621 più 1 6 a 622 abbiamo esattamente le mille dati da 10 al cubo ecco questo esattamente quantifica in mille giorni la data di romano dopo 621 data la premessa natale del 138 in quel 4 giugno 1940 è il giorno cui si arriva sommando 621 giorni al gennaio 38 che era il giorno 622esimo in cui morì e risorse miracolosamente per un intervento della maria santissima che lo miracolò determinando la parusia di un suo trascendente nuovo figlio ora abbiamo visto come il 138 dipende da papà e mamma nei loro nomi il 138 che avanza interamente di 138 si deve riferire a un 10 come addio e a questo punto esprime tutta la costruzione nel grembo materno quando a 138 si aggiungono tutti questi giorni 621 che portano al mille ecco che termina la vita e c'è bisogno di un miracolo per la sopravvivenza e in questa data qui l'ideale vita durata dieci al cubo giorni si mantiene grazie alla parusia di gesù che rivitalizza un moribondo ma poiché l'intera vita è prevista come un valore iniziale in genesi di mille uno più quei 27.672 che abbiamo visto ricavato proprio da genesi 38 come il nome dei due gemelli e quello che ne consegue in termini di previsione abbiamo che questa somma qui che porta la durata di tutta la vita esiste proprio scandita dal 138 perché quando si divide tutta questa lunghezza di vita per 138 otteniamo questo valore 207,77,53,62,31,88,40 il che mostra nel valore intero 207 tutta l'opera 7 di un assoluto 100 che avanza di 100 ma 7,77 indica il padre luigi amodeo nato 7 nell'unità dell'anno e 77 nel mese e nel giorno 53 è tutto il moto di amodeo uguale 47 nell'assoluto 100 poi 62 è tutto il moto di chi è nato nel segno del 38 per quanto si sposta nel 100 in cui è contenuto come 100 più 38 che quando è meno 38 vale 62 poi 31 quantifica la trinità e l'unità di un 6 uguale 31 che quando scende dal 62 che è l'inverso del 26 uguale dio in cui esiste ed esiste come 31 più 31 nel 62 si dettaglia in 62 meno 31 uguale 31 poi si dettaglia ancora come l'88 di luigi amodeo che è quanto si desume in nome paterno da genesi 25 e infine nel 40 uguale padre insomma tutta la vita in tutti e 28.673 giorni previsti da questo particolarissimo conteggio simile proprio all'ex pole con tutta la imprecisione che possa esservi collegata dipende come visto tutto dal 138 di genesi 38 e è in una considerazione particolarissima quando si capisce che questo 38 moltiplicandosi per 38 moltiplicandosi per 38 e divenendo 144 decine che vagano subito quando sono delle decine di primi perché sono allora tutti i minuti primi che esistono in un giorno e diventano ancora dettagliati di 4 unità quando passano 4 4 anni perché anche il tempo vale e si esprime anche quando è calcolato in anni in un anno a valenza di spazio e in altri 3 anni a valenza di tempo ed è il motivo per il quale ogni 4 anni bisogna aggiungere un giorno perché sui 4 anni perché sui 4 anni un giorno esiste solo in un quarto dei 4 anni perché gli altri 3 quarti non sono valenza di tempo ma sono valenza di spazio insomma è indiscutibile che in genesi 38 espressa proprio dal numero 138 ci sia tutto il progetto della mia vita che fino a quello che abbiamo visto esistere finora per il nome del padre della madre data di nascita codice fiscale consorte e tutte le definizioni legate a ciò che si è già osservato accaduto confermano la determinazione totale da genesi 38 e genesi 25 se da tanto abbiamo tanto l'exit poll prevede prevede che la durata della vita che riguarda un ente trino che si presenta nelle categorie della rappresentazione umana come un ente di tre componenti di dio poiché dio vale 26 allora la durata in anni dato che il mio terzo nome si chiama proprio anna uguale 26 è dettata dal secondo nome che presenta tre volte il nome anna in 27 in 26 più 26 più 26 uguale 78